Oggi ci sacrifichiamo per voi Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale torniamo con un video di assaggi dopo gli assaggi giapponesi gli assaggi cinesi gli assaggi non so quali facciamo degli assaggi nostrani italiani di vari tipi di merendine assaggi da colazioni e break in realtà ieri al supermercato abbiamo deciso di fare due tipi di video due tipi di assaggi uno lo vedrete oggi uno lo vedrete prossimamente sarà molto più divertente di questo allora abbiamo preso io ho preso dagli scaffali quelli che reputavo essere delle merendine che volevo provare e che però col punto interrogativo vi avrebbe fatto comodo sapere se erano buone oppure no novità barra chicche sono alcune merendine di una non di sottomarca da di ma di marche trasversali diciamo così c'è qualcosa senza glutine c'è qualcosa senza zucchero e lattosio qualcosa senza verendine cominciamo subito cominciamo subito tra l'altro questi video li fa spesso marta ca marta che salutiamo ciao martuccia è proprio il primo prodotto l'ho visto in un suo video veramente che leva spesso fuori italia tra queste chicche che vi annuncio sono arrivate anche in italia e addirittura in sicilia quindi proprio anche in africa troppo allora i grisbi al cocco chi vi voglia approvati noi no vi dico soltanto che contengono le peggio cose quindi olio di palma e qui ne ha più ne metta e soprattutto sono 91 calorie a biscotti una cosa leggera si giusto per gradire come una noce di cocco in testa diciamo che un biscotto fa il break scorriamo a bellissimo la prima cosa che mi piace vedere in questi biscotti malgrado Gabriele li abbia buttati nel carrello è che sono arrivati tutti integri belli ciccettosi i grisbi proprio sono belli per questo motivo e assaggiamo io non lo mangio l'intero è il profumo di cocco cremina giallina non bianca l'involucro è buono la cremina sa troppo di burro è di solare solare bilboa e quindi di chimico voleva dire Gabriele la cremina è molto fasulla molto molto chimica consigliamo quelli al cocco o quelli al cioccolato alla nocciola quelli classici i classici questa novità non ha portato nulla di buono che ci contavo sui grisbi vorrei continuare con queste le bis frolline della valdenza prodotte a canossa reggio emilia reggio emilia proviamo le bis frolline alla nocciola contengono olio di palma ma non raffine cioè non graffi non grassi idrogenati soli di palma pezzetto allora pecc bellino molto pecc casereccio allora la granella è tutta qua dentro qui ce n'è rimasta quindi non rispetta per niente quello che c'è qua nell'immagine un po perché si è stancato no non è vero apriamo tieni allora la cremina è un po così le noccioline continuano a sfracellarsi ovunque bene se avete in mente la crostatina non c'entra niente è molliccia la frolla no no non è croccante non è neanche la cioccolata non si sente non ha neanche un sapore freschissimo no ma vediamo se è scaduta capace che ho sbagliato io l'ho comprata scaduta effettivamente scade il 31 2017 quindi però non so la data di di fabbricazione quindi non so se ma anche volendo mancano 15 giorni comunque no il 31 si comunque molto prima della scadenza e non è buona senti mi fai assaggiare qualcosa di buono aspetta no due nei scelti tu e due non sono andati bene ora passiamo al reparto che ho scelto io cioè la merendina che io amerei per la colazione l'ho presa al reparto senza glutine senza ecco il glutine però questa allora della marca s z i reparti specifici per l'alimentazione settoriale diciamo così questa infatti è senza lattosio la marca s z ho letto dietro significa senza zucchero ma non vi fate trarre l'inganno perché queste per esempio si non hanno lo zucchero ma hanno dentro lo sciroppo di glucosio che è peggio quindi non tutte le s z sono senza zucchero leggete cosa manca qui manca il lattosio quindi sono meno dello 0,01 per cento di lattosio manca l'olio di palma mancano i grassi tropicali e sono coloranti e conservanti e gabriele quando le ha prese ha fatto questa macchina com'è la faccia ecco quella faccia invece sono le merendine che prediligo che carina guardate è un paninetto con l'uvetta io se mi date questo per colazione è un caffè o un tè io sono la persona più felice del mondo proviamola l'odore appena aprite un po alcolico vabbè perché se non c'è il conservante qualcosa ci sarà per mantenerla l'uvetta c'è è parecchia è tutta costellata di uvetta ops l'interno è morbida però all'aspetto un po asciutto diciamo così si è un po asciutta secondo me questa deve essere passata un secondo in microonde 10 secondi in microonde no 10 troppo 10 troppo 3 secondi neanche in microonde funziona vabbè è una merendina semplice questi agli uomini non ci piace questa cosa che cos'è è una specie di panetta una forma di panino al latte buonissima fatti la colazione buonissima e una merendina a solo pur essendo molto grande 156 calorie che per una prima colazione sono ottime se pensi che un biscotto ne aveva 91 certo almeno questa è una merendina ne ha 156 che mi è successa la voce capite bene che almeno qua mangiate date morsi masticate perché anche questo fa poi poi consigliate da ombretta buonissime tu no non lo so sono le preferite di zorro continuiamo con i preferiti di ombretta reparto senza glutine perché ci sono anche i nostri amici che non possono mangiare il glutine rimangono esclusi e allora ho preso due cose ho preso il glutine della aggluten mini strudel questo si è sfracellato però ve lo dico subito perché naturalmente è pasta frolla con mele dentro vediamo un po non contiene olio di palma c'è anche scritto senza olio di palma io vado a leggere gli ingredienti c'è scritto fuori purtroppo è di struttello ve ne faccio vedere aspettate è tutto sconquassato ecco qua si sarebbe presentato come un enorme biscottone lungo però anche questo secondo me è troppo per una sola merendina per una sola persona ne do almeno ci mangiano in venti no però sono due merende uno non è ti piace non è per uomini ragazze è buonissimo è buono però si sente sente la mela vero la frolla anche se non è tanto diverso da tanti di questi biscotti e questo è giusto questo però è senza glutine questo è senza glutine non è tanto diverso è un buonissimo strudel con la frolla e al posto della farina ci sono amido di mais e amido di riso allora se è così è buono è buono è costosetto quanto costo della singola merendina perché una singola merendina costa un euro e 50 quanto ma con un euro e 50 vado qua al bar mi dà una cosa così non capisco perché perché non è che ci siano ingredienti però ragazze mie la frolla è buona e morbida come frolla vabbè ma un ripieno molto umido basta basta mangiarla è buono buono perfetto promosso questo quindi abbiamo assaggiato due cose che per ora ci hanno tirato in morale io naturalmente io proviamo un'altra senza glutine sì sempre della a gluten le deliziose ciambelle alle mele questa è per due persone ragazzi perché è enorme è pesante 50 grammi 200 calorie 1 euro e 50 merendina a la ocean reparto gluten free wow ma è grande quanto una ciambella che fai tu in forno è più pesante delle ciambelline mister day per intenderci c'è l'uvetta questo è sempre con uvetta e alle mele alle mele con uvetta tieni caro una pasta molto è buona è buona però accompagnata con un tè con qualcosa che la perché la basta è molto che la faccia scendere la pasta il sapore è gradevole dolce al punto giusto ci sta benissimo quello sprizzetto dell'uvetta quello è questa a olio di palma perché dice che la margarina vegetale non idrogenata che è fatta da olio di palma raffinato e acqua è buona una buona alternativa alle merendine con glutine per i nostri amici che non è per maschi non è per maschi ma è per chi ne ha necessità ed è molto buona è gradevolissima è bella tosta quindi secondo me mezza per noi donne è più che sufficiente basta reparto non per maschi ora c'è reparto unisex e qui garantiamo questi li abbiamo scelti insieme cosa proviamo evviva il reparto che preferisco quello che posso condividere col mio maritino allora cominciamo da lei secondo me hanno cambiato solo il packaging però io non me le ricordavo neve dentro le fiesta babarum allora quando hanno rifatto l'edizione limitata delle fiesta babarum io sono impazzita se vi piace il salame turco cretino se vi piace il salame turco dai il salame di cioccolato il salame di cioccolato è così si chiama queste sono fantastiche e infatti vedete dentro ancora e infatti vedete dentro ancora c'è il pack vecchio quello con la striscia gialla perché le avevano fatte con la striscia gialla ora ci hanno messo room dei caraibi quindi o hanno cambiato il room ora ve lo diciamo subito la merendina è così fiesta di tenta tre volte tanto un carto salva fragranza qua è inutile guardare gli ingredienti giusto? c'è anche come si chiama sbarro qua dentro chi c'è? il pirata dei caraibi allora col salame o senza salame? non lo so col cioccolato e allora questa è la merendina sempre la stessa vabbè ma la Ferrero e la Ferrero la spezzo secondo me l'hanno cambiata io me la ricordo bianca dentro no me la ricordo l'ho solo mangiata comunque tieni amore assaggiamo l'hanno cambiata e l'hanno rovinata vero? mi piace accompagnato con un succo di pera che schifo room e pera l'hanno resa più golosa e appetibile anche ai ragazzi e l'hanno rovinata perché meno di room più di cioccolato più cremosa prima era più strong più room che quando l'aspirate sapete quando mi aspirate le merendine che sentite ecco prima ti sei ingozzato tutta la merendina? sei mangiata tutta mentre io parlavo con voi? ma tipo la carta pure? no cosa ci dici di buono? di bello? buona buona no a me non è piaciuta mi raccomando mi potete mangiare al massimo due perché se no poi se vi fanno il testo e il palloncino calorie non sono tantissime per pezzo 152 per quello che sono però ragazzi prima era più buona 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 questa è la merendina per i maschi andiamo avanti adesso proviamo una simil nutella crema spalmabile con cioccolato alle nocciole gianduia della white horse conoscete la white horse? ha lo shan la white horse è la marca di cioccolato parallela fanno i tutti i cioccolatini simili quelli in bustoni grandi e questa ci ha colpito la nocciolata perché signori e signori è senza olio di palma oggi abbiamo preso questa presto prenderemo per il prossimo assaggio se vi piaceranno questi video lasciatecelo scritto qua sotto se questi video vi piacciono mi raccomando lasciatecelo scritto perché se no vengo là l'apri? fanno anche la fondente la nocciola a parte il fatto che mi piace molto il pack molto della nonna tipo così pack della nonna? sigillata anche che cosa ridi? le mie amiche sanno cosa mi riferiscono il pack della nonna ecco qua si apre perfetto io ho problemi con la videocamera nuova perché è al contrario la visione quindi si apre non mi dire e il cioccolato sembra un po' grumettoso guardate vedete? assaggiamo non essere sempre te stesso ogni tanto fingi allora nulla a che vedere con la nutella è più simile a un gianduiotto in crema non sa più di nocciola si è buona 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 no non è brutta è buona non è granulosa no assolutamente saranno qualche bollicina forse si deve un attimino mescolare ragazzi è buona nulla non è che nulla a che vedere ha un sapore più di nocciola rispetto alla nutella è senza glutine è senza olio di palma e quindi sia gli amici che non possono mangiare glutine sia quelli che abborrono l'olio di palma ragazzi è buona è costata anche pochissimo 3 euro è qualcosa sui 3 euro 360 grammi di bontà buona veramente la consigliamo questa è per i maschi questa è anche per le femmine giù le mani amico e questa è anche per i bambini quando torna pochi poi gli faccio un bel pancarre con questo anche a me adesso proviamo questo il mio bambino ha voluto il cremino a me non piace ve lo dico subito proprio a me la formulazione a me piace il cremino bellino però come tavoletta è molto carina che bella è elegante la potete portare anche nel taschino quando andate al teatro prego non ammorsi allora elegante pure lui oh guarda dai dai tutti i pezzettini hanno lapidi per nigotti stampigliati sopra e neanche questo non importa a me il cremino non piace aspettiamo l'esperto il maître creminatier fa no fa no fa così maestro maestro poi non c'è ah mi avverto non c'è di peggio di quando Gabriele piace una cosa e ne rimane deluso nella tipologia tipo se gli faccio la parmigiana male per nigotti mi hai deluso veramente è una cosa è amaro non ti lascia la bocca ma non posso parlare perché a me è proprio il cremino come genere no 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 non mi piace invece dai dai sfogati con per nigotti no basta basta che poi mi denunciano no no ma digli cos'è che non ti piace questo è il cioccolato Gianluia al latte forse per te ci voleva quello fondente però se già al latte lo trovi amaro no non mi piace il cremino l'ho assaggiato sempre solo in cioccolatino giusto certo non sa non sa come gli altri non ti lascia un buon gusto è vuoto vuoto come dire non è pieno e cremoso al volante brava brava non ti lascia la bocca buona non ti fa venire voglio dire ah ora me la mangio tutta non ti impasta la bocca bene bene no alla Homer Simpson con i donut va bene ora proviamo una cosa che ho scelto io 99% fondente nero novi bellissimo questo deve essere questo è extra amaro questo è una roba non lo voglio che rimane così basta ciao arrivederci proviamolo io non lo voglio provare perché ci sono i cultori del cioccolato fondente tra cui io e proviamo il 99% amaro questo è quello che piace a cosa a Darth Vader ma perché ne mangi quanto un uccellino bello ti deve riempire la bocca se no non lo senti con questo muore se ti riempi la bocca com'è amaro no non lo posso mangiare grazie arrivederci però non è ferroso giusto un po' non è metallico non sa non sa di metallo allora come masticare delle fave di cacao amaro sentite tutto il gusto del cioccolato è buono è più buono dopo che lo avete ingoiato che non quando lo state masticando perché vi lascia un aroma molto intenso persistente persistente durante tutta la giornata no ma ricco quanto dura? 8 ore 8 ore 8 ore 9 e poi ultimo prodotto perché io adesso mi ero a fare una biochetassia basta veramente abbiamo mal pranzato tu sì tu mi hai chiesto perché ne assaggi pezzettini perché non puoi mangiare l'inferno di ogni cosa amore ma ti si scioglie al tempo che lo avvicini alla bocca e ti si sciogli sono nati i poke coffee dei caffèi nati che quando li ho visti ho detto burro a me non non credo piaceranno li provo giusto per farvi per dirvi come sono io sono una grande fan dei poke coffee normali cioè per me molto spesso è il mio break il poke coffee finissimo cioccolato e caffè decaffeinato quindi questi non ti danno non ti danno la carica del caffè ti danno solo l'energia del cioccolato la finta carica peck blue uno a testa? che vuoi farlo? vuoi dire tipo lumachina amore no no non in video ma si può è un vorace un vorace chiude la bocca prima di fattene il caffè non mi ride io continuo perché lui deve essere punito il caffè dentro c'è proprio come nei poke coffee normali però è lento nel poke coffee tu vieni invaso da quel caffè che sovrasta il cioccolato qui il caffè non sovrasta il cioccolato è più un dolcino che non una botta di energia quindi se siete golosi e il poke coffee lo volete per qua il porcellino se siete golosi e il poke coffee lo volete perché vi va di mangiarlo alle 10 di sera per intenderci va benissimo ma non ha lo stesso la stessa intensità vero tu poi non hai bevuto il caffè l'ha bevuto il maglione raccontaci com'è l'intensità del caffè buono non ha la stessa intensità del poke coffee normale e quindi amici bravi avete provato con noi queste delizie insomma qualcosa si qualcosa no fanno sta che io con grande soddisfazione con grande enorme enorme soddisfazione promuovo a pieni vuoti le cose che fanno meno male non dico bene ma che non fanno male quindi questa va bene questa super fantastica questo buonissimo lo strudel è il cioccolato 99% dov'è il cioccolato 99% e la crema tutto il resto è noia se vi è piaciuto questo video mi raccomando condividetelo sulle vostre pagine facebook mettete un pollice in su e mi raccomando dite ai vostri amici che c'è qualcuno che mangi cioccolatini in questo modo e soprattutto diteci cosa volete che noi proviamo per voi perché magari ci date voi lo spunto per andare a cercare cose un pochettino più strane da provare in video bene spero che questo video comunque vi sia stato utile per orientarvi nel mondo delle merendine da prima colazione o mini break noi ci rivediamo sempre qua sulle vostre tavole ciao